Amici sportivi di TRM, appassionati di basket, una buonasera dal Palacus, una buonasera da Valerio Sanfuso E Gabriele Cuccia, ciao a tutti Nona giornata del campionato di Serie B, giro di D tra Aquila, Palermo e pallacanestro Monteroni Gottini prova in situazioni di precario equilibrio, il rimbalzo di Michele Giovanatto, altri due punti, ha messo così l'ombretto questa azione di Michele Giovanatto Marcello Crozzoli intanto, spettacolare penetrazione, spettacolare anche il sottomano appoggiatosi al tabellone, il palleggio da parte numero 12 L'apertura per Gottini, Gottini da tre, lo mette, lo mette, ancora la tripa di Matteo Gottini Stiamo se Monteroni riuscirà a mettere gli ultimi punti di questo primo quarto, trentativo da tre, lo mette Consegnato da parte del 19, di ritorno a Palladragna da tre, lo mette Antonelli ruba palla e può andare, attenzione, vediamo sempre una schiacciata C'è un fallo, anche antisportivo, probabilmente l'arbitro chiama solo il fallo Antonelli stava, se lo conosciamo bene Gabriele Palle, stiamo andando per l'abimane Lo scarico per Giovanatto, adesso mani in faccia anche Cozzoli si alza da tre, lo mette, lo mette Mascello, Cozzoli Comelli in angolo per Dardagna, lo mette da tre, lo mette, lo mette Cozzoli, lo scarico per Dardagna, da tre, lo mette Merletto, dalla distanza incredibile, Daniela Merletto, questa è pura verrevisione Da più 10 siamo tornati a più 5, abbiamo perso una palla che può essere sanguinosa Però adesso non mi può fischiare antisportivo, perché prima allora mi deve spiegare il perché non ha fischiato Quello antisportivo su Antonelli In grosso si alza da tre, lo mette, lo mette ed è il vantaggio per Monteroni 6-5, 6-6 Il cronometro era partito prima che mi ha detto che prendesse Palacossoli Lo mette, lo mette, lo mette verso Palacossoli 80 pari È finita la partita, sarà overtime, sarà overtime Palacus 80 pari, questa partita non vuole finire, questa partita non vuole finire Palacus 10 giocatori e più delle banchine in campo perché hanno fatto una partita incredibile Riccite loro la tre, Riccite loro la tre, libera, libera, per un alto libero Marcello si è preso di forza, questa squadra sulle spalle Sbaglia volutamente in secondo per il ribasso, Dragna, Bernetto, lui di ribasso ancora Di Scalabino, è finita, a Tula Palermo 94, Monteroni 89, ottava vittoria consecutiva per i biancorassi di Marletta Partita veramente incredibile che però, permetti di dire, solo le grandi squadre possono ribaltare e vincere in così poco tempo Squadre che hanno non solo talento, non solo classe, ma grandi attributi